Mi è stato segnalato da un utente che segue il mio canale su YouTube o probabilmente mi segue in generale nella mia pratica divulgativa questo video fatto dalle iene. Io ultimamente mi sono un po' distaccato dalla televisione, è un po' che mi sono distaccato da quella che arriva, dall'informazione che arriva dai media diciamo tradizionali. Ovviamente mi tengo aggiornato, ogni tanto cerco di guardare quello che arriva soprattutto legato al mondo crypto, legato al mondo bitcoin eccetera però ho un po' perso le speranze, devo essere onesto, più che altro sto dando tempo al mondo di cambiare e di vedere la sua faccia peggiore anche per scoprire quelle che possono essere eventuali soluzioni o altre opzioni. E invece devo dire che questa volta, forse per la prima volta in assoluto, ho visto un video, un report, un servizio fatto veramente bene, un servizio interessante che fa vedere una sfaccettatura di questa tecnologia che è quella che poi realmente conta. Il servizio si chiama Libano, due punti, criptovalute per difendersi dalle banche ed è un servizio fatto dalle iene che si può trovare comodamente online sul sito appunto della Mediaset che magari poi andrò anche a linkare in questo video proprio per darvi la possibilità di guardarlo per intero visto che dura solamente 15 minuti. C'è il rischio che faccia io un video più lungo del servizio stesso, solitamente è così perché poi tendo a estrapolare alcuni concetti, a dilungarmi su alcuni discorsi. Ci teniamo quindi a fare questo shout out, come si utilizza a dire, o questo richiamo anche per fargli un po' di pubblicità ovviamente. Le iene non hanno bisogno della mia pubblicità ma mi piace sottolineare come ho fatto in passato in modo negativo, questa volta in modo positivo, un servizio ben fatto che fa aprire gli occhi su determinate situazioni. Questa è una situazione ben specifica, parliamo del Libano, che sta vivendo una situazione molto molto particolare. Libano è quel paese che si trova comunque in una posizione geografica in questo momento molto delicata, a confine con la Siria. Tutto quello che è successo sia a livello politico sia a livello economico, le due cose non sono scorrelate, è qui che dobbiamo sempre riflettere. Quello che si fa a livello politico, quello che si decide a livello anche di politica monetaria, lo andremo a vedere, si ripercuote sia sull'economia sia sulla salute e sul benessere della popolazione. Ed è per questo che arriva poi quella che è l'idea di Bitcoin nel 2008, non per speculare, non per fare tante altre cose, che per la maggiore vanno anche online. Quindi il 99,9% dei video che troviamo online sono sempre sui grafici, sono sempre su quanto Bitcoin vale, è crollato, vale di più, si diventa ricchi, quanto investire per diventare ricchi. Dobbiamo tornare un pochino alla base, non per essere noiosi, ma per capire il perché c'è un valore dietro, altrimenti un giorno può valere un totto e il giorno dopo potrebbe anche scomparire. Perché a quel punto, se non ci fosse quel valore dietro, si darebbe proprio giustificazione a tutti coloro che pensano che questa sia una bolla, ossia l'ennesimo fenomeno da tulipani, quindi richiamando quella bolla olandese ben famosa. Allora, il Libano è arrivato su tutte le notizie mondiali con l'esplosione di quella bomba al porto, che è stata poi un'esplosione non di una bomba, ma di un accumulo di nitrato d'ammonio che era stato messo da parte lì senza reale precauzione. E praticamente appunto si è creata una bomba pronta ad esplodere in qualsiasi momento, questa è esplosa e ha causato ingenti danni, portando quello che è il panorama ad essere quello che vi sto facendo vedere in questa immagine. Questa è stata la cosa più chiacchierata e la cosa di cui ancora si parla a lungo, anche a livello politico, si dà un po' la caccia al... si cerca il responsabile per questo evento. Quello che però sta succedendo in Libano non è solamente questo, ma è una crisi enorme, una delle più grandi che il paese abbia mai vissuto ed è conseguenza di scelte fatte in passato. Quindi cerchiamo di capire il perché il Libano si trova in questa situazione, perché molte persone vanno praticamente davanti alle banche e si ritrovano a dover combattere per poter ottenere quello che dovrebbe essere loro, quantomeno il diritto, oppure fanno file chilometriche solamente per fare benzina. Il fenomeno che sta succedendo viene descritto in parte, secondo me molto bene, anche da questo servizio, che essendo breve, essendo facilmente ingeribile, riesce a dare le informazioni necessarie anche in poco tempo. Quello che ci dice il servizio è anche che le persone in questo momento non stanno morendo perché c'è una guerra, perché ci sono gli attentati, perché ci sono tante altre cose, ma si muore prevalentemente per carenza di medicinali. Quindi mancano medicine di base per curarsi o mancano i soldi per poterle comprare. Allo stesso tempo c'è un problema con l'elettricità, manca l'elettricità nella maggior parte del paese e addirittura in alcuni punti di Beirut stessa si tengono spenti alcuni semafori per carenza di elettricità. Questo ha portato la popolazione a utilizzare sempre di più dei generatori. Questi generatori vengono alimentati da benzina o diesel e quindi anche la richiesta verso combustibile fossile è aumentata tantissimo, tanto che le pompe di benzina, alcune pompe di benzina, ad esempio a Beirut, sono sorvegliate dall'esercito libanese. E quindi c'è questo effetto a catena, questa crisi che sta portando questo enorme malessere nella popolazione e in aggiunta c'è proprio una inflazione che va a aggravare tutta la situazione in quanto la moneta corrente ha perso quello che è il suo ancoraggio reale con il dollaro. Qui bisogna fare appunto un passo indietro e capire una determinata scelta monetaria, di politica monetaria, cosa ha portato nel tempo. Praticamente nel 1997 il Libano accetta l'ancoraggio con il dollaro, ossia un cambio fisso che consentiva il cambio della lira libanese con il dollaro a un valore fisso di 1507 lire per un dollaro. Questo vuol dire che non importa quanto il dollaro fluttui sul cambio rispetto alle altre monete fiat, perché qualsiasi moneta, anche fiat, anche l'euro e il dollaro sono volatili, sono volatili rispetto ad altre monete. Ad esempio il dollaro è volatile rispetto all'euro. Ovviamente si cerca nei mercati di mantenere un equilibrio, esiste il forex. Insomma c'è questo equilibrio soprattutto tra le monete più importanti, le fiat più importanti al mondo. E allo stesso tempo c'era con la lira libanese. Però questo è stato fissato, quindi c'era un cambio fisso e si poteva fare questo cambio direttamente nelle banche commerciali che consentivano il prelievo di moneta locale, ossia la lira, oppure il prelievo di dollaro. Cosa comporta una politica monetaria di questo tipo? Inizialmente il paese ne ha visto un grande beneficio, ha riscontrato un grande beneficio su questa operazione. Perché? Perché praticamente ci si poteva permettere di comprare dei beni o dei servizi provenienti dall'estero con un cambio che non andava a gravare sulla svalutazione della moneta locale. Infatti se un termiato bene prodotto negli Stati Uniti poteva essere acquistato con un cambio fisso con la propria moneta che veniva cambiata sempre a 1500 lire per dollaro era molto più incentivante, è stato molto più incentivante andare ad acquistare beni all'estero ed importarli rispetto a produrli internamente. È proprio questo che avviene quando si crea un ancoraggio di questo tipo. Quindi per farlo a breve si crea un disincentivo per la produzione interna e un incentivo per l'import, danneggiando quindi l'export. Ossia non conviene più esportare delle cose, produrre ed esportarle ma conviene prendere la propria moneta e andare a comprare dall'estero. Tanto la moneta comunque sia si può stampare. Quindi si può stampare moneta e con questa si possono comprare cose che vengono prodotte dall'estero. Qual è il problema di un sistema di questo tipo? Non ci vuole troppo ad intuire che se fosse così semplice avremmo risolto tutti i problemi del mondo qualsiasi moneta si potrebbe ancorare con un cambio fisso sul dollaro e tutto basare su una produzione esterna e non quella interna del paese. Il problema di base è che l'economia di un paese viene proprio data da la produzione e che si traduce anche nel lavoro. Cioè se si produce qualcosa, se un'azienda produce assume anche altre persone dal lavoro e da stipendi. Se invece non c'è bisogno di produrre perché tanto si compra dall'estero beh si apriranno anche meno aziende, si assumeranno anche meno persone, si daranno anche meno stipendi. E questo è il primo effetto. Che in realtà non si vede subito la cosa iniziale è vedere una crescita. Tanto che nell'ultimo periodo il Libano è stato paragonato, è stato definito la Svizzera del Medio Oriente e gli effetti collaterali si vedono solitamente sempre nel tempo. Ovviamente questa è stata una scelta monetaria molto molto forte, una politica monetaria molto molto forte però ogni scelta porta delle conseguenze in più o meno tempo. Cosa succede poi? Che proprio lì a fianco scoppia una guerra molto molto forte, una serie in realtà di guerre che facciamo anche fatica a capire come possano risolversi nella limitrofa Siria e questo comporta ovviamente delle conseguenze. C'è in più una crisi economica generale anche del dollaro e anche dei paesi più sviluppati. Questo porta un effetto che naturalmente avrebbe dovuto far svalutare anche la moneta locale però con questo ancoraggio si crea uno squilibrio che porta praticamente le banche centrali a fare una proposta rispetto alle banche commerciali. Le banche commerciali depositando dollari verso la banca centrale avrebbero visto un riconoscimento di interessi nella moneta locale però in lira. Praticamente questo interesse era addirittura a doppie cifre, si parla del 13%, è stato del 13% maggiore e quindi le banche commerciali avevano un grande incentivo nel prendere i dollari che avevano quelli che distribuivano anche negli ATM, tramite ATM alle diverse persone e a metterle in deposito per guadagnare interessi che però venivano pagati in lira e la lira fatta dalla banca centrale veniva stampata dal nulla. Quindi era anche un sistema anch'esso ancora più insostenibile. ha portato una diminuzione di liquidità sul dollaro, quindi praticamente il dollaro non era più così accessibile come all'inizio di questo ancoraggio, in più molte persone preoccupate per quello che era il reale valore della moneta locale volevano ritirare dollaro dall'ATM perché ricordo quando è stato fatto l'accordo nel 1997 si potevano prelevare sia dollari che lira negli ATM delle banche commerciali. Ad ottobre del 2019 questo viene interrotto. Perché? Perché praticamente le banche commerciali non hanno più abbastanza dollari da poter distribuire a chiunque ne domandasse all'ATM e quindi viene interrotto il prelievo agli ATM per i dollari. Cosa crea questo effetto? Questi sono proprio ragionamenti che, questo è un caso specifico, ma ci hanno degli spunti importanti per quella che è un risvolto economico. Con questo si crea un effetto di scarsità, ossia il dollaro viene comunque percepito dal valore maggiore rispetto alla moneta locale, perché la moneta locale riesco a prelevarla e viene stampata comunque senza grandi vincoli dalle banche centrali che ne riconoscono degli interessi. A fronte di depositi invece nella moneta percepita in modo più scarso, a questo punto tutti vogliono, per proteggere il proprio potere d'acquisto, vorrebbero dollaro rispetto all'ira libanese. E quindi c'è un mercato nero che si va a creare dove ufficialmente l'ancoraggio del cambio è sempre fisso, 1507 lire per un dollaro, ma poi nella realtà dei fatti se io volessi avere dei dollari e vado da un amico, quindi sul mercato OTC, over the counter e gli propongo delle lire per quel dollaro, quella persona invece di 1500 lire me ne chiederà magari 2000. Perché? Perché sa che il dollaro ha un valore maggiore, ha un potere d'acquisto più forte rispetto alla lira locale, che invece nella realtà dei fatti sta svalutando e subisce l'inflazione in modo più forte. A quel punto la domanda sul mercato parallelo, non quello ufficiale ma mercato nero, diventa molto forte, ce lo fa vedere anche il servizio, si creano addirittura delle app dove si può vedere quello che è il reale cambio della lira con il dollaro, che è del tutto diversa rispetto a quello ufficiale, addirittura perde più di 10 volte quel ancoraggio lì, quindi si svaluta più di 10 volte. Che cosa comporta questo concetto? Che nella realtà dei fatti la moneta locale, la moneta, la fiat prodotta dalla banca centrale del paese, è volatile, se paragonata al dollaro, proprio come noi siamo abituati a vedere una volatilità sulle cripto. Bene, a questo punto perché la popolazione dovrebbe continuare a operare con una moneta così volatile che richiede comunque certi livelli di burocrazia come ad esempio un conto in banca o determinate restrizioni alla propria libertà di utilizzo rispetto a monete libere come le cripto. E infatti a questa domanda non c'è una risposta perché non c'è motivo per dover far così e infatti chi ha scoperto le cripto in Libano al momento preferisce utilizzarle. E' proprio questo il motivo del servizio. L'inviato ma in Libano e comincia a investigare su questo fenomeno. Ci sono dei spacciatori di cripto che cambiano cash dollari per cripto, ci sono degli exchange dove c'è un signore in particolare che tramite un'app Binance consente il cambio tra fiat e cripto e questi intervistati spiegano il motivo del perché. Principalmente i motivi sono due, se devo ottenere il dollaro che mi costa molto di più a questo punto magari è meglio che vado a ottenere una cripto stabile sul dollaro come ad esempio USDT che magari la pago meno ed è anche più pratica perché la trovo, la posso avere sul mio smartphone e posso fare tutte le operazioni che avrei fatto con il dollaro ma non mi devo portare il cash appresso ed è una moneta che non viene controllata dal governo locale di cui hanno iniziato a perdere fiducia. Ovviamente in una crisi del genere vengono messe in discussione qualsiasi cosa che veniva presa per buona in precedenza e in più il discorso principale è che parecchie persone non hanno un conto in banca, non lo hanno perché non lo hanno mai avuto oppure hanno cominciato a chiudere i conti in banca dopo che i depositi messi per anni che magari erano risparmi da lavoro di una vita non possono essere più prelevati, le banche chiudono e quindi praticamente vengono rapinati da coloro che dovevano tutelare la loro sicurezza, i loro risparmi, la loro vita in pratica. Consideriamo che in Libano a causa della svalutazione della moneta locale se dovessimo considerare il valore medio di uno stipendio in dollari, addirittura la media, il servizio ci dice di 29 dollari al mese, questo perché il valore del dollaro è andato a aumentare e la svalutazione invece della moneta locale e la crisi ha portato ad un abbassamento di quello che è il compenso. Quindi una situazione veramente sul filo del rasoio, in più mettiamoci che c'è la carenza di elettricità, infatti si vede nel servizio stesso l'inviato che va in una farmacia, e questo è molto forte come estratto di quel video, dove la farmacista accetta cripto come pagamento, quindi dà medicina in cambio di cripto. Ricordiamoci il fatto che molte persone stanno morendo in Libano non per bombe, attentati o cose del genere, ma perché mancano le medicine di base per potersi curare e non hanno modo di poterle comprare perché poi la loro moneta che avevano, magari avevano anche risparmi ma sono andati a svalutare, quindi non hanno più un potere d'acquisto. A quel punto la farmacista accetta cripto in una farmacia al buio perché gli manca l'elettricità e dice, la stessa confessa, che i soldi in questo periodo storico non hanno più questo gran valore, parole sue, e preferisce tenere le cripto che incassa piuttosto che cambiarle in qualsiasi altra moneta fiat che reputa con meno valore. Quando l'inviato va a cambiare 6 dollari in bitcoin nell'exchange locale, che spiega di non avere un conto in banca e di essere escluso dal circuito dei grandi exchange come ad esempio Coinbase o altri, ci dice che effettivamente gran parte del mondo ha questa problematica che noi in Europa o negli Stati Uniti non percepiamo, ossia molte persone vivono nello stato di unbanked, ossia non hanno accesso a un conto in banca, come ad esempio molti paesi africani o appunto paesi di questa tipologia. Qui è quello di poter conservare i propri risparmi, di poter mettere da parte il lavoro per cui si è sacrificata parte del nostro tempo e della nostra vita dovrebbe essere un diritto umano esteso a tutto il mondo ed è ancora un qualcosa che l'uomo non ha raggiunto, quando invece stiamo già pensando che siamo in uno stato avanzato dove le cripto non servono. È qui che bisognerebbe focalizzarsi, è qui che bitcoin ha preso valore non nel fatto che appunto si può scambiare, fare trading e fare più dollari. È qui la grande differenza su cui ogni tanto dovremmo riflettere. È assurdo vedere dei commenti dopo un ritracciamento recente che ha portato BTC, sì, dal suo massimo di 69 mila dollari, comunque molto molto alto, a un ritracciamento sotto i 50 mila dollari, vedere dei commenti del tipo è questa la vostra riserva di valore? Ma è assurdo vedere la limitazione di questi commenti senza capire il contesto generale, senza capire quello che realmente sta succedendo nel mondo e siccome noi ci troviamo in una situazione più stabile, più agevolata e con più assistenza lato governo, ci pensiamo più al sicuro, ci percepiamo la situazione più al sicuro non considerando che poi quando andiamo a dare troppa fiducia nelle mani di pochi, da un momento all'altro le cose potrebbero cambiare, potrebbero andare contro perché noi abbiamo ceduto parte delle nostre libertà e alcuni esempi come questi vanno studiati perché va aperta la testa su quello che potrebbe succedere se poi alcune cose vengono fatte male. Ma non perché si vogliano fare male, non voglio fare il complottista che dice c'è un piano ben delineato per renderci schiavi, per renderci poveri. Non è questo il discorso, è che quando la gestione viene data in mano a persone, magari in quel momento c'è una persona saggia, c'è una persona in grado di gestire tutto nel migliore dei modi. Che succede se quella persona un giorno fa la scelta sbagliata o se addirittura cambia, arriva un'altra persona che non ha la minima idea di come si va a gestire o le conseguenze che si possono avere nel tempo per una determinata decisione, come è avvenuto nel 1997 con questa decisione presa in Libano. E le conseguenze che vi invito a studiare, ad approfondire, vedere qual è la reale situazione che non viene riportata così com'è proprio nei media, dove si parla di tanto e non si va mai al dunque. Il servizio poi prosegue facendo vedere il mining di Ethereum, questo più che altro è una persona che fa mining di Ethereum, questo anche per spiegare come queste monete vengono generate e appunto messe al sicuro e chi convalida le transazioni è un classico, bisogna sempre mettere quella parte per far capire da dove arrivano queste monete, ci sta. Noi lo possiamo sorvolare perché in questo canale dovremmo avere ben chiaro come funziona, anche se il metodo di consenso capisco che non è ancora un qualcosa afferrato da tutti. Comunque è sempre bene ripassare quei concetti. Ci spiegano poi come sia molto più pratico, infatti utilizzare il gritto, infatti l'inviato quando insieme a un'altra persona, un intervistato, vanno a vedere un sito dove poter comprare una sorta di ebay, un e-commerce locale dove poter comprare determinati oggetti usati, vedono una macchina e il prezzo è prima in bitcoin che in fiat l'inviato si stupisce e lui dice ma è logico che sia così perché trasportare così tanto cash, che è l'unica forma di pagamento perché la maggior parte delle persone non hanno un conto, comunque non riescono a utilizzarlo, è molto meglio andare in giro con il proprio telefono, nessuno sa che ho quei soldi e poi li trasferisco direttamente in modo sicuro e senza dovermi fidare di un intermediario alla persona che poi in cambio mi dà quel bene. Allora a quel punto l'inviato fa una prova e prova ad acquistare una bicicletta, si mette d'accordo con una persona, si aspettava una persona giovane invece si presenta un pensionato che con un cellulare riceve il pagamento, probabilmente fatto in stablecoin, non so perché si accordano per un'ottantina di dollari e quindi fa il pagamento in cripto, l'inviato se ne va con la bicicletta acquistata e la persona è molto contenta di ricevere il pagamento in quel modo, molto molto pratico per entrambi. A questo punto arriva la parte finale, quella più bella di questo video secondo me dove fa scattare il ragionamento, c'è appunto una serie di dichiarazioni degli intervistati che dicono di come effettivamente sta cambiando la percezione e la predisposizione a fidarsi verso le banche, verso il governo, questo perché quando si ripone fiducia e si viene traditi ovviamente quella fiducia poi va a mancare, quindi c'è proprio un cambiamento e uno spostamento della fiducia delle persone, la maggior parte degli intervistati, adesso non so se tutti quelli intervistati sono stati presi solo quelli che avevano fiducia in questo contesto e magari scartati gli altri, questo noi non possiamo saperlo, in ogni caso le persone che parlano ci dicono di come hanno più fiducia verso un sistema che per definizione è trustless e di fatto non richiede fiducia rispetto a dover riporre nuovamente fiducia verso qualcuno perché bruciati in passato sanno di come, se si ripone fiducia poi si deve sperare che questa fiducia venga mantenuta e quindi si sta spostando la fiducia delle persone dalle banche al governo verso sistemi trustless e decentralizzati dove c'è una tecnologia alla base ed è proprio lì che si genera il valore ed è il motivo per cui bitcoin vale ad oggi più di 50.000 dollari ed è questo il percorso di ragionamento che gli stessi hanno capito toccando con mano la pericolosità di scelte umane, di scelte e di manovre, di politica monetaria alle volte folli ma che in un primo momento sembrano portare solo benefici soltanto che siamo molto resti a ragionare sul lungo periodo e lo stiamo facendo anche nel contesto più allargato perché noi ci pensiamo di essere in una situazione che va bene visto che gli ultimi 50 anni bene o male il sistema ha retto ricordiamoci che questo attuale sistema è qui solo da 50 anni solo negli ultimi 50 anni, dal 1971 fece anche un video questo non vuol dire che voglio paragonare il Libano all'Europa o Libano agli Stati Uniti assolutamente no, le situazioni sono completamente diverse tanto che appunto l'Europa ha una sua moneta, ha un'altra scelta, ha un'altra politica monetaria mentre invece il Libano ha scelto questo ancoraggio quello che però voglio dire è che tante volte delle scelte vedono le loro conseguenze e quindi la loro insostenibilità in un tempo un po' più prolungato qui ci sono voluti poco più di 20 anni per vedere che la cosa non era sostenibile non si poteva mantenere, in alcuni altri contesti magari ci potrebbe volere di più perché il sistema regge un po' di più proprio perché ha un'influenza più forte e le spese ne pagano prima gli altri paesi perché in questo contesto qui particolare se il Libano è andato in questa situazione è anche a causa di un declino della situazione sul dollaro stesso che ovviamente vede prima delle ripercussioni su paesi più deboli a livello economico e poi magari potrebbe vederne anche alla radice, alla base, chissà in chiusura molti degli intervistati ammettono di non avere più un conto in banca o di non averlo mai avuto e di preferire i loro risparmi in cripto rispetto a quelli sui conti ma è normale quando vedi che da un giorno all'altro la banca ti potrebbe chiudere non ti fa più ritirare quello che vuoi è normale che preferisci avere la libertà di possedere quello che è tuo e prendi anche i rischi che comporta una determinata scelta ma sai che dipende da te e non più da qualcun altro e questa lezione è una lezione che hanno imparato the hard way lì è magari un rischio che noi stiamo attualmente correndo e quando lo scopriremo probabilmente sarà troppo tardi come è successo a tante altre persone questo non vuole essere un alarmismo ma un invito a riflettere intanto vi invito anche a guardare questo bel servizio veramente uno dei migliori che abbia mai visto fatto dalla televisione su media tradizionali mi piace molto il finale dove un operatore di una onlus o comunque di una no profit se non erro ci dice questa è la soluzione giusta è l'unica opzione che abbiamo questo noi non possiamo saperlo al momento nessuno lo sa però il punto è che finalmente si mette in discussione qualcosa che era sempre stato dato per scontato grazie a tutti grazie a tutti